Musica Prosegue con la quarta udienza il processo Giovanni Vantaggiato, autore reo confesso della strage al Morvillo Falcone. Fase cruciale del dibattimento con l'ascolto delle testimonianze delle persone coinvolte direttamente nell'esplosione che costò la vita alla sedicenne Merissa Bassi. Ad aprire questo quarto appuntamento, ancora privo della presenza dell'imputato, Vanessa Capodieci coinvolta insieme alla sorella Veronica nei fatti di quel maledetto 19 maggio 2012. La ragazza ripercorre i movimenti di quel giorno spiegando come il rituale per l'arrivo a scuola fosse sempre lo stesso, modificato al massimo da ritardi degli autobus, ma sempre lo stesso. Ricorda Vanessa l'arrivo a scuola, l'incontro con le compagne, quel cassonetto blu stranamente posizionato in mezzo ai pali di sostegno del cartellone pubblicitario, poi lo scoppio, il soccorso alla sorella portata con la forza della disperazione all'interno del cancello della scuola e un bidello ed il suo insegnante d'inglese che la aiutavano ad assistere Veronica in lacrime con il torace aperto e le ferite da tamponare. Dettagli che ricorda anche la stessa Veronica, convinta di sognare al momento dell'attentato, poi pochi frammenti, il piazzale della scuola ed il giubbino della sorella premuto sul suo addome. A deporre altri testimoni come Maria Luisa Congedo, mamma di una ragazza del Morrillo Falcone appena accompagnata in auto al momento dell'esplosione, che investe il mezzo che resta danneggiato ma salva inevitabilmente la donna e sua figlia. Nessuno dei testimoni ascoltato finora ricorda però di aver visto notato Giovanni vantaggiato davanti alla scuola quel giorno. L'ascolto dei test è poi continuato con le persone con cui vantaggiato avrebbe avuto contatti per recuperare il materiale usato poi per il confezionamento dell'ordigno utilizzato. Una fase che, considerando le numerose persone ancora ad ascoltare, si protrarrà nelle prossime udienze.